La stagione del baseball americano è finalmente arrivata al suo culmine, finalmente sono arrivate le World Series che partiranno stanotte al Globe Life Field di Arlington, Texas tra Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers. Alla fine di tutti i playoff, le due migliori squadre della Lega sono arrivate fino in fondo e ci affronteranno a partire dunque da questa notte nella serie che decreterà il campione MLB di questa strana stagione 2020. Il migliori gioco del baseball dunque avrà le sue massimo sette partite finali per decretare il campione. Da una parte abbiamo i Los Angeles Dodgers che non vingono un titolo dal 1988, sono passati 32 anni e dall'altra parte abbiamo i Tampa Bay Rays, un po' la sorpresa di questi ultimi anni. Una squadra che negli ultimi due o tre anni è sempre cresciuta tantissimo ed è arrivata fino ad arrivare al titolo dell'American League East, a essere prima testa di serie in tutta l'American League e arrivare fino in fondo alle World Series dopo una gara strepitosa e una serie strepitosa contro gli Houston Astros. Sta veramente crepa cuore e tante emozioni. Entrambe le squadre vengono qui con una gara sette alle spalle, i Los Angeles Dodgers, cioè la serie contro gli Atlanta Braves e i Tampa Bay Rays. Hanno dovuto sudarsela veramente tantissimo questa World Series contro gli Houston Astros al termine di due serie ragazzi veramente pazzesche e incredibili. Dunque andremo a vedere in questo video come sono arrivate entrambe le squadre a questa World Series e poi presenteremo i giocatori chiave da tenere d'occhio in questa grandissima serie che vi ricordo partirà stanotte e che verrà trasmessa anche in Italia su Sky Sport con partite commentate in diretta in italiano. Dai giornalisti di Sky, play ball per gara 1 stanotte alle 2 direttamente dal Globe Live Field di Arlington, Texas. Partiamo ad analizzare però le serie della Championship Series a partire dall'American League perché è stata una serie veramente pazzesca e clamorosa. Sky ha trasmesso gara 2, gara 5 e gara 6, non ha trasmesso purtroppo gara 7 ma di quello avremo nel nostro resoconto. Invece abbiamo visto in diretta come i Los Angeles Dodgers hanno battuto gli Atlanta Braves ma lì ci arriveremo. American League Championship Series dunque si affrontavano Tampa Bay Rays e Houston Astros in una serie abbastanza clamorosa già di per sé perché appunto come dicevo gli Houston Astros avevano fatto un upset contro i Minnesota Twins e hanno battuto gli Oakland A's e potevano arrivare a contendersi l'ennesima World Series degli ultimi anni dopo quella persa dell'anno scorso, dopo quella tanto vinta e tanto rubata quasi o discussa per i segnali appunto rubati agli avversari. Tampa Bay è partita benissimo perché in gara 1 vittoria contro Houston, in gara 2 stesso copione e questa gara l'aveva trasmessa addirittura Sky Sport con un punteggio veramente stretto. Appena la grafica ci dà una mano ci fa vedere che appunto la partita per gara 2 è finita 4-2 per i Tampa Bay Rays. Tampa Bay Rays che ha schierato fin dall'inizio il lanciatore partente Charlie Morton di cui parleremo alla fine del video. Dall'altra parte poi c'è stato un grandissimo duello tra lanciatori perché appunto gli Astros hanno schierato Les McCullers Junior che nonostante i tre punti concessi di fatto nel suo starting ha praticamente silenziato un attacco dei Rays che ha vinto soprattutto grazie alle difese. In particolare le difese del prima base Iman Choi, coreano sontuoso, veramente un idolo incontrastato. Se lo vedete come fisico diciamo che non ha proprio l'attitudine del fisico sportivo, mettiamola così, in senso all'alto del termine. Invece si è cimentato in tantissime spaccate, in tantissime prese mostruose in prima base che veramente me l'ha fatto diventare uno dei miei più idoli assoluti di questo sport. Grazie alle difese in particolare appunto sull'asse terza base e prima base i Tampa Bay Rays riscono a vincere. C'è anche ovviamente il contributo dell'attacco perché come vediamo qui Manuel Margot fa al primo inning un fuoricampo da due punti su Les McCullers che poi ne subirà un altro su Mike Zunino, l'italo americano al settimo inning prima di arrivare alla sconfitta. Come potete vedere McCullers ha lanciato sette inning totali, ha subito quattro vali di un punto soltanto concesso, undici strike out. Nonostante questo McCullers ha perso la partita. Il vincente è un po' di stato Charlie Morton che è un lanciatore fondamentale per questi Rays. E la salvezza l'ha portata a casa Nick Henderson con dei brividi finali nel momento che è nel nonno inning che vediamo dal tabellone. Houston ha messo il secondo punto, dieci divide addirittura per gli Astros contro quattro dei Rays ma Tampa se l'è portata a casa. Tampa che a un certo punto arriva anche alla vittoria per 3-0 e dunque sembra veramente a un passo dallo sweep, dal 4-0 e invece accade evidentemente l'irreparabile. Accade l'irreparabile perché Houston si ricorda di essere una squadra da playoff nonostante in questo momento sia la più odiata della Lega e arriviamo a quella che è una grande rimonta per quanto riguarda gli Astros perché da 3-0 vincono gara 4 per 4-3 con i fuoricampo decisivi di Altuve direttamente subito al pre-uniting su Tyler Glasnow, un altro di lanciatori terribili dei Tampa Bay Rays. si è svegliato George Springer che anche lui fa un fuoricampo al quinto inning, non poteva mancare dall'altra parte il fuoricampo di Randy Aros Arena uno dei giocatori più devastanti di questa postseason MLB, il lanciatore vincente di questa partita è Zach Greinke, un grande veterano e Tyler Glasnow purtroppo è il perdente per i Rays e la porta a casa Ryan Presley, il closer degli Astros per questo 3-1. Di solito sul 3-1 comunque ci si aspetta che invece in gara 5 la squadra che ha perso la prima partita possa riscattarsi e invece accade ancora una volta il contrario perché anche in gara 5 vince Houston e qui c'è una statistica pazzesca e incredibile, Houston è la prima squadra che riesce a vincere quantomeno nell'era moderna una partita di postseason con un fuoricampo a iniziare la partita al primo battitore in questo caso Joel Springer come vedete qui fuoricampo al primo inning su Curtis con ovviamente 0-8 al primo uomo in battuta e la chiude sempre con un fuoricampo per vincere la partita per mettere la freccia e sorpassare i Tampa Bay Rays che qui perdono 4-3 col fuoricampo da un punto di Carlos Correa al nonno inning. Qui Houston fa meno valide dei Rays ma porta a causa una gara 5 veramente insperata. L'inerzia evidentemente è tutta dalla parte degli Astros che evidentemente riesce di non fermarsi qui e addirittura arrivare dal 3-0 al 3-3 perché appena la schermata ci darà una mano vedremo che gli Astros di Dusty Baker hanno fatto una impresa sontuosa vincendo anche gara 6 per 7-4 una gara pazzesca che vede vincente Franber Valdez uno dei lanciatori che è stato fondamentale per la postseason di Houston in particolare contro Minnesota nella Wild Card Series che da rilievo ha silenziato di fatto l'attacco dei Twins la perde Blake Snell che è un altro lanciatore molto interessante per i Rays e Presley porta ancora a casa una salvezza fondamentale Manuel Margot si ripete ancora una volta in attacco con due fuoricampo, tre totali in questa postseason per colui che fece anche una presa sontuosa all'esterno destro sempre in gara 2 contro Houston si iscrive al festival dei fuoricampo per gli Astros anche Kyle Tucker al sesto inning su McCullough come vedete il vincente è Valdez che in 6 inning concede di fatto un punto soltanto guadagnato per Houston e la perde Blake Snell che anche lui ha subito pochi punti due però purtroppo quanto basta per perdere questa partita e dunque incredibilmente anche questa serie che sembrava destinata al vittoria facile per i Rays visto il 3-0 delle prime partite ha una incredibile gara 7 si poteva ipotizzare uno scenario che ha già visto coinvolti i New York Yankees e i Boston Red Sox l'anno era il 2004 ed è una serie che è passata alla storia perché fu l'anno in cui i Red Sox rimontarono da 3-0 a 4-3 e poi andavano a vincere le World Series nel 2004 spezzando The Curse of the Bambino, la maledizione di Babe Ruth e allora attenzione perché da 3-0 si va alla parità assoluta sul 3-3 e si va alla gara 7 una gara 7 che però per gli Astros ha un esito che non è come quello dei Boston Red Sox perché si ripete il punteggio per 4-2 con i Tampa Bay Rays e torna in auge Charlie Morton, Mr. Game 7 per gli Houston Astros che ancora una volta affronta Lance McCullers e porta a casa la vittoria per i Tampa Bay Rays la posizione di Morton la vediamo in questo tabellino 3 inning e 2 terzi lanciati quindi molto poco rispetto alla gara 2 4 inning, 4 vere subite, 3 punti concessi una basebole, 7 strikeout ma 2 fuoricampo in particolare li vediamo qui i fuoricampo degli Houston Astros saranno assolutamente importanti il tabellino di Charlie Morton lo vediamo qui 5 inning e 2 terzi lanciati, 2 valide concesse, nessun punto subito e 6 strikeout per un'altra apparenza solita di Mr. Game 7 dall'altra parte Lance McCullers fa ancora una volta una marea di strikeout 7 ne ha fatti 18 totali in 2 gare in postseason 3 inning e 3 terzi lanciati però 4 inning, 4 valide subite e 3 punti concessi con 2 fuoricampo in particolare fuoricampo ancora una volta di Mike Zunino little americano si risulta decisivo al secondo inning ma soprattutto rendi a Rosarena ragazzi un giocatore suntuoso all'esterno cubano effetto il suo quarto fuoricampo in questa postseason e le statistiche le vedremo quando presenteremo l'Ever Series ma piccolo spoiler a Rosarena è l'MVP delle Championship Series di questi playoff la porta a casa alla salvezza Peter Fairbank sono dei lanciatori della scuderia dei Tampa Bay Rays veramente i Tampa Bay Rays sono una squadra veramente solida che non hanno grandi campioni ma che possono dare il fio da torcere a chiunque e veramente per quello che hanno fatto in regular season in questi playoff hanno meritato a pieno merito l'accesso a queste World Series con tanti patimi d'animo perché non è facile vincere una gara 7 dopo che hai vinto 3 partite di fila e ne hai perse altre 3 di fila arrivi alla partita senza un domani ovvero gara 7 e te la giochi e vai a vincere contro una squadra che è abituata a fare playoff al netto di quello che si dice in questo momento ovvero gli Houston Astros e Tampa ha dimostrato ancora una volta di completare quel percorso di carista che li ha visti iniziare qualche anno fa quindi ancora una volta ottimo lavoro di Kevin Cash chi saranno gli avversari dei Tampa Bay Rays in queste World Series? saranno i Los Angeles Dodgers che anche loro hanno fatto una grande rimonta per usare in questo caso per un termine cestistico Atlanta blew a 3-1 lead perché gli Atlanta Braves erano in vantaggio per 3-1 nella serie contro i Dodgers e ancora una volta la squadra numero 1 testa di serie del tabellone fa una rimonta non così eclattante come poteva essere quella degli Houston Astros per fortuna spezzata dai Tampa Bay Rays ma una rimonta qui in questo caso completa da 3-1 a 4-3 eppure le cose per Atlanta si erano messe bene perché la formazione di Brian Snitker era in vantaggio per 2-0 al termine delle prime due partite anche se va detto che questa serie poteva effettivamente dare spazio a grande rimonte in particolare dopo questa gara 2 una gara 2 che vincono i Braves per 8-7 gara anche quella trasmessa da Sky Sport il segnale che secondo me ha dato il click ai Dodgers per farli ricordare di essere una squadra di playoff è stato questo nono inning sontuoso da addirittura 4 punti una inning dove c'è un fuoricampo di Max Manzi che inizia la rimonta un fuoricampo importante che riduce lo svantaggio a solo 2 punti poi i Dodgers mettono altri punti sul tabellone e arrivano a un totale di 7 punti peccato che i Braves ne hanno fatti di fatto un in più di punti e il fuoricampo di Ozzy Albis giocatore antillano al nono inning si risulta ovviamente importantissimo e capitale per la vittoria dei Braves che di fatto vincono la partita con un rilievo Tyler Mazzek per i Los Angeles Dodgers il perdente Tony Gonsolin che come vediamo qui ha effettuato 4 inning e un terzo totali 5 punti subiti però per il numero 46 mentre Mazzek è il primo rilievo entrato dopo la prestazione di Ian Anderson che comunque era un lanciatore prima della gara 7 che non aveva mai subito punti in questa postseason la salvezza è del grande veterano Mark Melanson ed è 2 a 0 per i Braves che però effettivamente dovevano un attimo stare attenti a questo grande quarto a questo grande nonno inning scusatemi dei Dodgers da 4 punti ed effettivamente i Dodgers in gara 3 hanno fatto quello che hanno voluto gara che peraltro ho avuto il piacere di vedere perché si è registrato un inning storico vedete benissimo il punteggio 15 a 3 per i Dodgers in gara 3 convincente Urias e perdente è Kyle Wright ma quello che conta sono addirittura gli 11 punti segnati nel singolo inning per quanto riguarda i Los Angeles Dodgers veramente una prestazione mai vista i Dodgers hanno veramente condensato un attacco che è un po' mancato in parte in gara 2 e in gara 1 tutto nel primo inning di gara 3 mettendo direttamente subito la parola fine a questa partita e facendo capire che non bisogna mai dare per morti i Los Angelini in questo primo inning purtroppo registriamo la sconfitta di Kyle Wright che appunto in due eliminazioni concede 7 punti media ieri ragazzi di 94.50 un qualcosa di allucinante ma quello che conta sono i fuoricampo dei Dodgers tutti al primo inning per esempio Jock Peterson che giocava con i battitori disegnato come Eric Rios e poi andiamo avanti con Max Mancy con Cody Bellinger con Kyle Seeger che sarà l'MVP di questa Championship Series per i Dodgers insomma veramente tanta carne al fuoco per un attacco che si era svegliato e che poteva effettivamente compiere una rimonta Los Angeles dunque che va a gara 4 veramente con l'inerzia dalla sua parte e gara 4 era la gara fondamentale perché sul monte di lancio per i Dodgers c'è stato il lanciatore storico di questa franchise ovvero Clayton Kershaw e invece Clayton Kershaw perde gara 4 e vincono i Braves per un totale di 10 a 2 va Atlanta sul 3 a 1 e ha i match point per chiudere la serie ma non sono d'accordo invece i Los Angeles Dodgers perché vincono tutte le partite che qui concluderanno la serie in particolare viene vinta innanzitutto gara 5 ma la partita che sarà importante è questa gara 6 perché finisce 3 a 1 per i Los Angeles Dodgers che hanno una prestazione mostruosa da parte di Buller uno dei lanciatori importanti post Kershaw ovviamente dei Dodgers con 6 inning lanciati 7 valide concessi ma nessun punto subito perde purtroppo Max Fried ed è questa probabilmente la cartina di tornasole per i Braves perché Max Fried era l'unico lanciatore importante della rotazione originaria della formazione di Brian Snitker e purtroppo concede 3 punti di cui 2 fuori campo i fuori campo sono del solito Corey Seager e ovviamente di Justin Turner che si è svegliato in questi playoff si va anche qui dunque a gara 7 con una vittoria risicata purtroppo però i Braves non hanno più l'inizio della loro parte però le ultime partite hanno visto che probabilmente c'è equilibrio al di là di qualche exploit come abbiamo visto in gara 4 per i Braves e in gara 3 per i Dodgers si va dunque a gara 7 ma i Dodgers la vincono 4 a 3 anche questa gara è stata trasmessa su Sky Sport il vincente è un sontuoso Julio Urias che entra da rilievo e chiude la partita dal 7 inning in avanti i Braves vanno addirittura in vantaggio nei primi due inning con fuoricampo importanti di in particolare Tensby Swanson al secondo inning dopo che nel primo invece i punti sono stati costruiti i Dodgers poi riescono a pareggiare con il catcher Will Smith Atlanta va sul 3 a 2 ma nel sesto e nel settimo arrivano due innesti fondamentali in particolare il pinchettere Rick Hernandez che gioca al posto di Peterson entrato a partita in corso scaglia fuori il fuoricampo del pareggio su AJ Mint uno dei lanciatori più importanti dei Braves statisticamente parlando ed è il pareggio ma il fuoricampo decisivo lo effettua lo vedete al settimo inning su Chris Martin Cody Bellinger un fuoricampo mostruoso da un punto spedito lontanissimo al Grove Blackfield ed è 4 a 3 i Los Angeles Dodgers con 10 wide totali a 3 vincono gara 7 e vanno al World Series due anni dopo il 2018 e tre anni dopo il 2017 quando persero contro gli Houston Astros il vincente vi dicevo è Julio Urias che è entrato al settimo inning non concedendo niente all'attacco dei Braves il perdente è Chris Martin che è il rilievo che è entrato al settimo inning concedendo il fuoricampo di Bellinger e i Braves purtroppo non andranno a contendersi il titolo dopo essere stati l'ultima volta nelle World Series nel 1999 e è 99 e dunque con due gare 7 due serie pazzesche si arriva alla World Series che si terrà sempre ad Arlington al Globe Live Field tra Tampa Bay e Los Angeles è una serie che vede le due migliori squadre della stagione di entrambe le leghe contendersi il titolo e negli ultimi 25 anni dal 1995 questa cosa è successa soltanto 4 volte nel 95 nel 99 nel 2013 quando si affrontarono Boston Red Sox e St. Louis Cardinals e succede nel 2020 con Tampa Bay e Los Angeles è veramente una serie bellissima che spero onestamente vada a gara 7 e poi lì che vinca il migliore io sono un tifoso esterno diciamo perché sapete che io tifo i New York Mets tendenzialmente io tendo a tifare per i più deboli e tendenzialmente i più deboli sono quelli che possono spendere meno che non hanno i grandi campioni che hanno magari meno mezzi magari in altri sport Los Angeles è indubbiamente la squadra che spende di più e ha superato da diversi anni gli Yankees nel Monte Salari Tampa Bay invece è una squadra che appunto è stata costruita nel tempo con il lavoro di Kevin Cash e i lavori si vedono in questa cavalcata ai playoff i Tampa Bay Rays hanno dei nomi che magari non diranno tantissimo ma sono una squadra nel vero senso della parola e possono dare veramente figo da torcere a chiunque contro i Dodgers non sarà facile onestamente sarà una World Series veramente divertente chi sono comunque i giocatori da tenere d'occhio di entrambe le squadre lo vediamo con le statistiche di MLB.com in particolare possiamo partire con l'MVP delle Champions Series per quanto riguarda i Tampa Bay Rays e parliamo del giocatore cubano Randy Arosarena lo vediamo qui il numero 56 un classe 1995 di Cuba che si è ispirato a suo dire a Yasiel Puig che è un altro giocatore sontuoso ma di carattere veramente diverso rispetto ad Arosarena ha avuto una postseason veramente strepitosa il cubano entra a queste World Series con queste statistiche 382 di media battuta una roba sontuosa 7 fuori campo 10 RBI per probabilmente il giocatore simbolo di questa squadra ed è incredibile come sia lui il giocatore simbolo perché è un rookie al primissimo anno in MLB perché di fatto ha debuttato ad agosto del 2019 ma per la regola dell'MLB è ancora considerato un rookie in attacco c'è anche un altro giocatore di cui possiamo parlare che è Margot ma ne parleremo dopo il punto veramente forte di Tampa Bay che non solo è la difesa ma è il monte di lancio e come dice un vecchadaggio del gioco del baseball con le difese e un monte di lancio buono si vincono i campionati chi può essere sicuramente un lanciatore a tenere d'occhio è lui è il partente dei Tampa Bay Rays Blake Snell il giocatore di Seattle Washington classe 92 che in questa diciamo postseason ha due vinte due perse tre eventi di media IREM è un giocatore veramente interessante ed è probabilmente lui uno dei giocatori di Taylor Glock insieme a Charlie Morton di cui però per la rima che vi dicevo a fine video un altro lanciatore partente importante per i Rays è Tyler Glasnow uno dei lanciatori della cosiddetta scuderia un concetto lanciato dai Tampa Bay Rays in particolare da Kevin Cash nella serie contro gli Yankees per scuderia si intende una serie di lanciatori che sa tirare delle palle veloci a oltre 100 miglia all'ora e Tyler Glasnow è uno di questi il classe 93 di Newhall California entra con queste statistiche due vittorie una sconfitta in postseason 4.66 la media dei Rays un po' altina però diciamo bisogna sperare che nelle partite con Glasnow sul monte l'attacco dei Rays possa produrre tanto per poi lasciare spazio ai altri lanciatori della scuderia il monte rilievi è veramente qualcosa che in questo 2020 per i Rays ha fatto e fa la differenza e in particolare abbiamo tanti giocatori che possono dare una mano alla causa di Kevin Cash e sono i giocatori della scuderia ovvero il monte rilievi tutta gente che tira delle sassate allucinanti in particolare per esempio Pete Fairbanks che è uno dei lanciatori Parlando non ha mai vinto né perso una partita in questa postseason a una media di due punti guadagnati su di lui circa 2.16 in ogni caso è veramente tantissimo per colui che ha portato a casa tre salvezze in questa postseason in otto inning e un terzo lanciati con 13 strikeout quindi attenzione innanzitutto a Peter Fairbanks un altro lanciatore che può dare una mano non come closer ma presumo probabilmente come setup man è Nick Henderson che ha perso una partita sia vera in questa postseason ma è un giocatore molto più costante di quello che dicono le statistiche basti vedere per esempio le vediamo qui le statistiche della regular season due vinte una persa e 0,55 di media in postseason la media si è alzata a 4.63 ma perché appunto ha perso una partita anche l'ha portato a casa una salvezza l'abbiamo visto prima però anche Nick Henderson è un lanciatore veramente molto interessante giocatore classe 90 del stato del Minnesota ma un altro lanciatore che può fare veramente spettacolo è lui Diego Castiglio classe 94 quindi mio coetaneo dominicano queste le statistiche una vittoria 0 perse una media PGL di 1,08 due salvezze per Diego Castiglio i 10 strikeout quindi anche lui è un altro tipo Fairbanks un altro che tira delle sassate allucinanti che comunque è un lanciatore sicuro su cui Kevin Cash può fare affidamento dicevo c'è anche l'attacco e oltre da Rosanera da Rosarena nome che faccio veramente fatica a dirlo c'è anche lui Manuel Margot giocatore importantissimo che in gara 2 soprattutto ha dato il là alla vittoria di Tampa Bay Rays contro gli Houston Astros e anche in difesa ragazzi ha fatto delle cose allucinanti la presa che ha fatto all'esterno destro in gara 2 è qualcosa da vedere rivedere e se posso vi lascio il link qui sotto in descrizione del video le statistiche di Manuel Margot sono le seguenti 250 di media battuta ed è una media abbordabile per uno giocatore di potenza questi fanno veramente la differenza però ragazzi 5 fuoricampo e 11 RBI per quello che insieme alla Cubano Rosarena è il go-to guy dell'attacco chi sono invece i giocatori da tenere d'occhio per i Dodgers ovviamente non si può non nominare Corey Seager Corey Seager è l'MVP delle Championship Series della National League non potrebbe che essere altrimenti perché in questa possession in generale ha avuto le statistiche mostruose ma nelle Championship Series ha fatto 5 dei suoi 6 fuoricampo le statistiche di Corey Seager sono queste 298 di media battuta 6 fuoricampo 15 punti battuti a casa per il fratello di Kyle che gioca nei Seattle Mariners Seager evidentemente si ritrova ancora una volta in finale con i Dodgers ancora una volta è vicino a vincere un titolo che i Dodgers per una balla o per l'altra di fatto non hanno mai vinto e ci sarà bisogno assolutamente di lui nelle vertici che partono stanotte ci sarà bisogno anche di quest'altro giocatore che si è svegliato nelle ultime partite di postseason ovvero Corey Bellinger il figlio di Clay che entra in questa position con 250 di media battuta 3 fuoricampo e 10 RBI ma i 3 fuoricampo sono oltremodo importanti dal punto di vista del peso specifico perché in particolare come dicevo prima il terzo dei 3 fuoricampo è quello decisivo per portare i Los Angeles Dodgers ancora una volta a vincere il titolo non si può non nominare per quanto riguarda l'attacco o comunque i Dodgers Mookie Betts che è vero non ha delle statistiche devastanti però 312 di media battuta non si butta mai via è un giocatore su cui Los Angeles ha investito veramente tantissimo è il giocatore più pagato della storia col nuovo contratto che ha firmato per 12 anni a 375 milioni di euro della storia del baseball americano ed è ovviamente lui il giocatore su cui Los Angeles ha investito per il presente e per il futuro della franchigia Mookie Betts ha già vinto dei titoli con i Boston Red Sox e prova a ripetersi due anni dopo con i Los Angeles Dodgers che comunque hanno un monte di lancio importante vero c'è Kershaw vero ci sono i giocatori del bullpen game quindi Gonsolin Dustin May e anche Buller ma il giocatore più caldo di questa postseason per quanto riguarda il monte di lancio è quello che vi faccio vedere adesso ovvero Julio Huria se lo vediamo qui mentre carica un lancio il classe 96 messicano entra in questa postseason con queste statistiche quattro vittorie zero sconfitte una media di punti sul lanciatore di 0,56 quindi niente vuol dire che le squadre avversarie quando affrontano lui segnano a malapena mezzo punta partita un qualcosa di allucinante 16 inning lanciati 16 strike out attenzione alla gara quando sarà Hurias sul monte perché se le statistiche sono queste è una vittoria non dico sicura per i Dodgers ma comunque molto probabile per la formazione di Dave Roberts che se non dovesse vincere è evidentemente condannato a una stagione oltremodo fallimentare e dunque arriviamo alla partita di stanotte con questa situazione due squadre che sono arrivate alle World Series vincendo entrambe gare 7 sono le teste di serie i numeri di tabelloni da una parte e dall'altra ci sarà veramente da divertirsi ma soprattutto c'è ancora una domanda a cui bisogna dare risposta chi saranno i lanciatori partenti di questa sera indubbiamente la sfida è una sola è quella tra Charlie Morton e Claydon Kershaw e in particolare per Charlie Morton è la World Series della vita perché il 36enne denominato Mr. Game 7 è stato uno degli elementi portanti e fondamentali di questi race per arrivare fino in fondo queste statistiche sono fondamentali 3 vittorie 0 sconfitte 0,56 di media PGL con 15 inning lanciati 17 strike out il compito il piano partita di Kevin Cash su Morton è quello di portarlo almeno al quinto inning per poi lasciare spazio alla scuteria che dovrebbe vedere e provvedere dall'altra parte però ovviamente c'è Clayton Kershaw che di certo non è un giocatore mai da tenere diciamo in sottovalutazione le statistiche non sono devastanti perché per Kershaw una media di PGL di 3.32 non è diciamo una media dei suoi standard ha vinto due partite in questa postseason ne ha persa una sono comunque 23 strike out in 9 inning sono statistiche comunque che per la maggior parte dei lanciatori farebbero ampiamente comodo Clayton Kershaw letteralmente gioca in casa perché è di Dallas Texas cerca incredibilmente un titolo che non ha mai vinto e oggettivamente lui lo meriterebbe per il talento che ha c'è questa possibilità di giocare le World Seasons nella bolla di Arlington che di fatto è un subborgo di Dallas e dunque lui letteralmente gioca in casa ha la possibilità di vincere un titolo e sarà una gara 1 spettacolare che Sky Sports trasmetterà questa notte alle 2 con replica domani sera alle 8 e mezza in contemporanea con la Champions League di calcio ma questo ragazzi è un evento che non bisogna perdere le borselle sono finalmente arrivate e abbiamo due squadre totalmente diverse di fronte da una parte i Los Angeles Dodgers che sono la squadra che spende di più del monte stipendi della MLB e dall'altra la rivelazione è una squadra costruita nel tempo probabilmente la cenerentola l'underdog meglio di questa MLB per il quale bisogna stare attaccati allo schermo a vedere una eventualmente impresa in queste World Series pre-ball stanotte alle 2 finite le World Series parleremo appunto di chi vincerà il titolo fatemi sapere cosa ne pensate voi appassionati di baseball che mai guarderete questo video il vostro pronostico riguardo le World Series per quanto riguarda invece i video del canale sportivo ci vediamo domani sempre alle 19 con il pagino dei promossi del mondiale Superbike il saluto da parte di me tutorial dunque ci vediamo domani con il prossimo video